Professoressa parliamo di dispersione scolastica di cui si parla spesso per capire un po' il fenomeno a livello regionale e cittadino. C'è stata la pandemia e ora fuori dalla pandemia qual è la reale situazione? La reale situazione che abbiamo visto è che intanto a scuola si viene quindi i ragazzi in abbandono e in evasione non ci sono, sono pochissimi. I casi che abbiamo registrato quest'anno sono semplicemente di ragazzi che erano extracomunitari e sono tornati nel paese di origine quindi non possiamo considerarlo né evasione né abbandono. Quello che come scuola noi andiamo a monitorare è l'indice di dispersione scolastica. L'indice di dispersione scolastica contiene vari fattori, contiene gli abbandoni, cioè gente che era a scuola ma che non è più venuta, contiene gli evasori, gente che si è iscritta e che non si è mai presentata, contiene i famosi respinti o bocciati come li vogliamo chiamare, cioè ragazzi che non hanno avuto la validità dell'anno scolastico per la frequenza saltuaria oppure che non hanno raggiunto gli obiettivi quindi sono costretti a ripetere gli anni. E per ultimo i prosciolti, cioè i ragazzi che sono arrivati all'età di 16 anni quindi hanno finito l'obbligo scolastico e non possono più venire a scuola. I dati dalla direzione generale hanno fatto vedere che negli anni questa percentuale è andata sempre più abbassandosi e per l'anno scorso si è fermata per la regione Sicilia sul 2,8%. Quindi un dato abbastanza basso e anche in linea con i dati nazionali. Di fatto ciò che bisogna contrastare probabilmente è proprio quell'aspetto che ha citato poco fa, la frequenza saltuaria che dipende anche dalle famiglie. Sì, la frequenza saltuaria è quella per cui poi noi veniamo bacchettati dall'invalsi perché mentre l'indice di dispersione globale è un indice di dispersione esplicita, la frequenza saltuaria incide su quella che l'invalsi chiama indice di dispersione implicita, cioè incide sul fatto che i ragazzi sono stati proprio penalizzati dal non essere presenti a scuola e non raggiungono quegli obiettivi che sono standard che la comunità europea tra tutte altre cose ci impone come obiettivi di competenze per le fasce d'età differenti come l'invalsi poi va a registrare. Quindi il lavoro che si deve fare adesso, un lavoro sulle famiglie, educarli a far sì che siano costantemente presenti questi ragazzini a scuola in modo da poter lavorare con loro e fargli raggiungere determinati obiettivi e sono quelle competenze che poi gli servono per la vita. Non sono certo competenze solo di tipo scolastico. C'è un altro aspetto forse da considerare in parte accentuato dagli effetti della pandemia, quello dell'isolamento sociale degli Ikikomori. È un aspetto di cui ci si sta occupando anche a livello nazionale. Qual è la situazione qui nella sua scuola nel contesto messinese e regionale se avete visto un po' un aumento di questo fenomeno? A livello regionale si è visto qualche aumento. Anche a Messina c'è qualche casa in più, soprattutto nella fascia d'età che va tra i 14-18. Nella fascia d'età della scuola media ce n'è poco, alla scuola primaria non abbiamo notato niente di particolare. Stiamo cercando di lavorare proprio con l'associazione Ikikomori per portare avanti queste problematiche, essere di supporto lì soprattutto alle famiglie che veramente si trovano in delle situazioni impensabili. Immagini un genitore che si trova il figlio che vuole stare chiuso in cameretta e solo collegato via internet in un mondo tutto suo. È la fatica che faranno a poco a poco per farlo ritornare alla normalità. Per un ragazzino di questi se la mamma gli dice vai a buttare la spazzatura è un trauma. Se nel momento in cui prende la spazzatura e scende fino al portone e la porta giù per loro è già un grande vantaggio. Non gli si può dire neanche vai a comprare il latte che è finito. Siamo a questi livelli, non vogliono proprio uscire alla loro stanza. In generale cosa si può fare? Forse ci vuole più collaborazione tra famiglie e scuola? Non devono essere due comparti totalmente separati? Quello che stiamo cercando di fare, non parlo della mia scuola ma tutte le scuole, è di avere un maggiore aiuto da parte delle famiglie, una maggiore collaborazione perché quello che deve passare è che la scuola e la famiglia vanno alla stessa parte. Nessuno è contro nessuno. E quindi a poco a poco cercando di lavorare proprio su questo in effetti i risultati si stanno vedendo. Perché se già li portano per noi è un grande vantaggio. Abbiamo parlato di un miglioramento in questi dieci anni di questi valori sulla dispersione che di fatto si stanno abbassando sempre di più. Lei è la dirigente di una scuola in un contesto che risulta il più particolare come quello di fondo fucile, della zona di Gazi e in generale della zona sud. Ha visto in questi anni anche un po' un miglioramento della situazione sia rispetto all'approccio delle famiglie alla scuola sia rispetto alle zone in generale. Proprio qui a fianco si è provveduto a una delle opere più grandi di risanamento in questi ultimi mesi. Guardi, nel tempo a poco a poco l'atteggiamento delle famiglie verso la scuola sta cambiando. Ma ci vuole tempo. Sono delle idee radicate sul territorio e per farle cambiare il lavoro che si deve fare è tanto. Nel tempo noi abbiamo visto una maggiore fiducia verso le istituzioni da parte delle famiglie, i ragazzi più presenti, le famiglie anche loro più disponibili al dialogo. E questo è molto importante. Il fatto poi ci sia stato lo sbaraccamento negli ultimi due anni fatto proprio cambiare l'utenza della scuola. C'è un messaggio che possiamo lanciare e se c'è qualcosa che la rende più orgogliosa dei suoi ragazzi che hanno attraversato un periodo complicatissimo negli ultimi due anni, quello della pandemia, e che ora sono tornati ormai da qualche mese a scuola. La cosa bella è che sono tornati a scuola e hanno avuto voglia di rimettersi in gioco. Le dico una cosa banale, io per Natale non ho detto a nessuno prepariamo o non prepariamo, facciamo un open day, incontriamo i genitori. È venuta dai ragazzi e dai docenti. Hanno avuto voglia loro di rimettersi in gioco, di fare cose, di rimanere fuori dall'orario scolastico anche per poter organizzare il presepe vivente e le varie decorazioni che c'erano a scuola. Adesso ne vedete pochissime perché chiaramente le abbiamo spuntate. Sono stati felicissime delle uscite che abbiamo fatto, perché con i progetti che abbiamo fatto all'inizio, ecco, il fatto stesso di poter uscire stamattina, sono andati al cinema, le mamme erano felicissime, anzi mi hanno chiesto di organizzare anche con le famiglie. E ho detto vabbè, un giorno di sabato che non c'è scuola possiamo organizzare e fare un'uscita tutti insieme. Anche questo è bello, anche questo è una cosa importante. Dici anni fa non me l'avrebbero chiesto. Secondo lei la scuola è cambiata anche da questo punto di vista, diventando sempre più un punto di condivisione anche con gli adulti e non solo per i bambini? È questo che stiamo cercando di fare, cosa che abbiamo fatto anche chiedendo in zone come questa, come Santa Lucia, una sede del centro per la preparazione degli adulti e centro che è partito in Sordina, all'inizio avevamo una decina di iscritti, adesso abbiamo 40 iscritti. E naturalmente sono tutti i genitori che non hanno il diploma di licenza media, che stanno ritornando sui banchi. E questo magari gli consente di capire tante dinamiche che stando fuori non si vedono.